Con la fine dell'emergenza, gli italiani tornano a spendere per la Pasqua, con una media di 69,2 euro a famiglia, il 25% in più rispetto allo scorso anno, attestandosi ai livelli pre-pandemia del 2019, nonostante le preoccupazioni per il conflitto. Si allungano le tavolate, ma salgono in media di quasi il 6% anche i costi per la preparazione dei menù di Pasqua, per i rincari dei prezzi che interessano tutti i principali prodotti, simbolo della festa. Aumenta il tempo dedicato in cucina, nella preparazione dei pasti, che sale a due ore di media, ma fra quelli che hanno scelto di dedicarsi ai fornelli, c'è un 29% di appassionati che ha deciso di spendere fino a tre ore di tempo e una quota dell'8% di maratoneti della cucina che si spingerà sulle 5 ore per portare in tavola piatti di ogni tipo, secondo Coldiretti Toscana. Non manca però un 6% di italiani che ricorrerà al cibo d'asporto o direttamente alla consegna a domicilio. Tra i prodotti immancabili sulle tavole pasquali, quasi 4 italiani su 10, 39%, mangeranno carne di agnello per rispettare la tradizione. Tra coloro che non rinunciano all'agnello, il 24% acquisterà quello made in Italy e un altro 9% lo andrà addirittura a comprare direttamente dal produttore per avere la garanzia dell'origine.